PEGI 18 Contatto! Occupate gli obiettivi. Eliminate il nemico. Possiamo passare da qui. Un po' che uccite. Il nemico ha schierato un Juggernaut. La nostra cannoliera è in zona. No, faccio aereo in arrivo. L'Aswell ha detto che era una città segreta. Il Catala come l'ha trovata? Qualcuno li aiuta. Nemici corazzati! Il Catala è stato per leggerne. Non, 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 non. Il Catala è stata erratto. Numa azzurri. Il Catala è stato per leggerne. L'attenzione. È questo. Grazie a tutti.